Vuoi leggere una tua poesia? Ma io gli avrei la precedenza a Gatti, poi siccome l'organizzatore questa è la mia legge, se il tempo non basta è al discapito dell'organizzatore quindi dico, poi direi che non ha saputo organizzare bene siccome faccio pure il moderatore allora, Giovanna Giovanni la nostra decana prego no, si si non si sente facciamo di un applauso di un applauso io non mi pagherai non so se qualcuno la vuole leggere no, la devi leggere no pagina 14 qui c'è una splendida foto e chiove suona un'antica voce a te cara ed evitata quella che io sarò in memoria piove ancora sulle violette dei posti e dei frumi dell'aria sulla terra d'amore fioreta in te Paola e Maria piove ancora sull'intero universo su tutte le cose ma non importa ormai importa invece ricordare che senza mai resa ognuno ha tentasti condolente poesia a cogliere il senso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti